Sindaco, dopo l'incontro dei giorni scorsi con i pescatori marinai, continua il suo lavoro e il suo impegno per cercare di capire anche insieme alla Giunta quali saranno le azioni da mettere in campo? Beh intanto va detto che il problema vero è mettere nelle condizioni il comparto di poter lavorare, riandare in mare e pescare e qui il Comune ovviamente non ha strumenti, possono essere solo interventi governativi o regionali per alleggerire il peso dell'aumento del gasolio, come è avvenuto in altri comparti è importante questo. Quindi la prima cosa che ho fatto è quella di essere al loro fianco, ho scritto anche ai miei colleghi sindaci di Porti dove ci sono flotte della marineria proprio per essere uniti perché l'Unione come si dice fa la forza e in questo caso aumenta la voce della protesta, più che della protesta, della richiesta del comparto della pesca. Fra l'altro in questo incontro si è parlato anche di aiuti alle famiglie, noi oggi fra l'altro in Giunta ne abbiamo parlato ma oggettivamente non c'è un'immediatezza, noi abbiamo dei moduli per aiutare le famiglie che si stanno in difficoltà ma ci sono dei parametri condivisi anche con i sindacati che richiedono i loro tempi, poi bisogna avere l'ISEE, insomma ci sono delle oggettive difficoltà ma poi sono tampone, come dicevo il problema vero è quello di mettere nelle condizioni gli armatori di poter uscire e andare a pescare. In ogni caso su questo oggi stesso ho scritto anche alla senatrice Accotto che è la sottosegretaria per chiedere di interessarsi anche lei di questa questione essendo sottosegretario alle politiche del lavoro, qui ci sono politiche attive anche che possono essere utili al problema, quindi mi sono fatto carico di sottoporre l'attenzione anche alla rappresentante della nostra città del governo. Un problema che non riguarda soltanto gli armatori ma come abbiamo sentito anche tutta la filiera. Sì perché la pesca che ha un significato economico per quel comparto ma è legata a tanti altri mondi, c'è una città turistica, c'è il mercato, c'è la ristorazione, quindi c'è tutto un insieme di aspetti che vengono condizionati. A cominciare dai costi della vendita, dal fatto che se non si produce, se non si pesca nel nostro male bisogna importarlo. Quindi è un problema che ha ricaduto anche su altri comparti.